La sindrome di Sjogren colpisce 3-4 persone ogni 10.000 abitanti. Una malattia viene considerata rara quando colpisce meno di 5 persone ogni 10.000 abitanti. Quindi risulta evidente che la sindrome di Sjogren primaria sistemica debba essere inclusa nell'elenco delle malattie rare. E questo soprattutto per permettere alle persone con questa sindrome di poter accedere a una serie di servizi e di prestazioni che possano in parte perlomeno compensare la disabilità indotta da questa patologia. L'Associazione Italiana di Fisioterapia continua ad essere al fianco delle persone con sindrome di Sjogren primaria sistemica per combattere questa importante battaglia di dignità.